diversi da chi diversi da chi il titolo che ho scelto per questo piccolo contributo diversi da chi è una forma di approccio se vogliamo ad un fenomeno che purtroppo non è certamente edificante anzi è il fenomeno del razzismo che sempre più va a toccare non solo la vita la quotidianità non occorre proprio andare troppo lontano ciò che sta succedendo a proposito della senatrice segre ricordo ternata deportati in un campo di esterminio e sopravvissuta appunto a quelle a quei fatti è di per sé quanto mai eloquente ma alla fine non dico che sarebbe di minore importanza se fosse limitato a questa gravissimo questo non c'è alcun dubbio il problema forse è ancora più subdolo si sta insinuando ancora di più perché perché va a interessare settori sempre più ampi allora va a interessare lo sport non è una novità è vero premetto subito non è una novità gli insulti gli ululati i bu per giocatori solo perché hanno un colore di pelle diverso sono una costante appena di recente proprio per il comportamento della tifoseria perché bisogna dire che non solo certamente non solo ma nel mondo del pallone questo fenomeno ha preso piede di più un presidente di federazione nazionale e l'allenatore della squadra nazionale si sono dimessi proprio per il comportamento della propria tifoseria e poi c'è il caso recentissimo di verona con il giocatore del brescia con balotelli e con tutto ciò che ne è conseguito per cui quasi quasi è stato messo lui sul banco degli accusati dopo è vero ci sono anche quelli che reagiscono in maniera assolutamente brillante ricordo un giocatore del barcellona che anche la evidentemente quindi un po tutto il mondo del paese era stato fatto oggetto di questi questi atteggiamenti al punto che gli erano state tirate delle banane in campo e lui con molta tranquillità si è aperto la banale si è messo a mangiarla e anche ringraziato così smontando proprio il tutto ma perché ne parlo perché anche noi nel nostro piccolo non ci facciamo mancare nulla e il caso lo ricorderanno certo tutti gli appassionati gli sportivi della nostra provincia riguarda un cittadino italiano ancorché nato in marocco saïd buddalia che dopo aver ottenuto l'ennesimo risultato straordinario in una maratona al di là dell'oceano con un tempo che è il migliore per la sua categoria a livello del nostro paese si va il record momento insomma è mica proprio del tutto del tutto italiano da da pensare e poi sollecitato buddalia ha raccontato la sua storia la nascita a casablanca in marocco l'aver fatto in gioventù diversi sport favorito dal fatto che il papà era bidello e quindi almeno a casablanca almeno le città più grosse attorno alle scuole c'erano delle delle piastre delle strutture per la pratica dello sport l'essere un pendolare stagionale noi i nostri migranti stagionali andava in francia per motivi di sport andava a correre poi ritornava quando scadevano i permessi e poi il passaggio in italia il lavoro alla dalmine l'essere stato assunto dopo un colloquio perché evidentemente diciamo i cacciatori di teste della dalmine adesso non più ma una degli orgogli della dell'imprenditoria italiana i tubi dalmine erano famosi in tutto il mondo lo sono ancora anche perché la proprietà non sia più proprio nel nostro paese evidentemente dal colloquio avevano capito che quel signore ancorché straniero evidentemente aveva le caratteristiche potevano servire proprio per per le esigenze della società e poi il matrimonio il matrimonio del veneto nel feltrino per la precisione e come registrava lo stesso saeed nessun problema dei rispettivi suoceri anzi un'apertura totale assoluta la richiesta allora questo prevede la legge della cittadinanza per matrimonio una pratica non seguita particolarmente poi vabbè diamoci un occhio chiuso il tutto e nel 2006 dice saeed io ho giurato sulla costituzione italiana che è diventata la mia costituzione davanti al sindaco non ha lungi nelle queste interviste a lungi da fare polemiche certo che a molti è venuto questo questa curiosità chissà quanti degli italiani per diritto diciamo di nascita sono con intimamente convinti che è possibile dire di se stessi che la costituzione è la propria costituzione e quindi va rispettata evidentemente per quello che c'è ha fatto due note in questa in questo commento in questa intervista di budalia credo siano degne di note perché danno conto di molte cose in trasparenza essere ammareggiato perché le polemiche sul fatto che lui non sarebbe insomma del tutto italiano sono nate nel feltrino dove dice che è la mia terra ma anche l'orgoglio di poter dire io e la mia famiglia peraltro continuiamo ad andare avanti a testa alta ed anche questo non ci sono state aggiunte e pur tuttavia avrebbe da pensare chissà se proprio tutti 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 quelli che invece di professione fanno gli odiatori si usa dire oggi o comunque vanno a fare delle discriminanti sulla base di questo non dei valori della persona se tutti effettivamente davanti allo specchio possono dire di poter andare a testa alta a testa alta